amici di radiofonica benvenuti in questa meravigliosa seconda puntata di astrofobia l'unico podcast che parla di oroscopo ospiti di oggi ospite di oggi federico artista eclettico del scorpione scusate ma iniziamo subito con la classifica settimanale stilata da signora rianna no dai sempre dai siti non attendibili allora come al solito iniziamo dall'ultimo classificato e oggi abbiamo acquario che ci dice ci dice che il classico soggetto appoggiato all'angolo della sala con un drink in mano che si chiede perché diavolo ha deciso di andare lì e io direi che è vero perché è un sogno abbastanza pacato che lui preferirebbe stare nel letto voi avete testimonianza di qualche acquario Mario è subito dopo capricorno quindi metà gennaio sì metà gennaio inizio febbraio ah sì 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 c'è anche un ragazzo di radiofonica ciao alessandro ma andiamo avanti dopo di che abbiamo cancro all'undicesimo posto che dall'ultima volta è abbastanza sceso che comunque l'abbiamo elogiato è risaputo che preferiscono un buon film a casa con una pizza insomma non un festaiolo ma del resto ci vuole equilibrio nella vita e c'è da dire che nella tranquillità loro sono i migliori e posso dire che è vero loro sono i classici tipetti che stanno sì i classici tipetti che stanno a casa proprio con con netflix e la cesta di popcorn ma muoviamola qualche critica questo a questo cancro ragazzi uscite di casa ogni tanto divertitevi ci sta come no no io non sono d'accordo sei d'accordo non sono d'accordo perché è giusto capito che tu fai quella settimana in cui te sfasci completamente e la settimana dopo che te la hai riso ma il cancro non fa neanche la settimana in cui ti sfasci no sì il cancro fa tutto l'anno a casa no vabbè questo è un tipo sessantenne corpo di un ventenne ah sì però c'è anche da dire che se si svegliano bene sanno stare nelle feste perché io ho degli amici che ci sanno anzi mi vengono pure a recuperare a me quindi vabbè e andiamo avanti con il segno del nostro ospite che è scorpione che anche questo segno scende molto questa settimana e dicono che partono sempre con il piede giusto il problema è che finiscono nel letto di qualcuno o stesi per il troppo alcol o buttati fuori dalla sicurezza insomma non proprio una buona compagnia dissenti confermi diciamo che no dai quasi allora c'è raccontaci di te alle teste come sei che cosa fai alle feste allora come sono le feste dipende quale tipo di festa se la festa è brutta la seconda cosa che hai detto è molto corretta quella del che muori a terra poi però se la festa è bella no dai sono abbastanza compagnone vabbè ma noi sappiamo che a te piace fare proprio una cosa alle feste proprio una cosa nello specifico suonare perché sono il chitarrista dei giant gummy bears ciao ma andiamo avanti con il nono posto ovvero i pesci che anche loro sono scesi devo dire che la classifica è tutto al contrario rispetto all'ultima volta vabbè diremo poco sappiamo che vi piace fare festa ma vi preghiamo di stare a casa o imparare a gestire la vostra relazione tossica con droga e alcol se no tocca a noi venirvi a recuperare per favore qualche aneddoto su pesci allora oddio sai che forse conosco talmente poche persone che non saprei che dirti no io li conosco tu li conosci eh sì sono così cioè o sono quelli presi ma a me non va ad uscire oppure escono e veramente cioè tu non li recuperi più poi vi racconterò un aneddoto sui pesci sono veramente una cosa ingestibile io avevo una teoria che poi ho anche palesato da rianna prima cioè che i pesci tutti i pesci hanno una bassa tolleranza alle sostanze alcoliche non so se qualcuno può può smentire c'è diciamo la differenza cioè tra quelli che si divertono e quelli che entrano in uno stato di completa confusione e non dicono niente non parco lì mi preoccupano anche un po' guarda ti dico i pesci o meglio il pesce da pesciolina che conosco io non è che parte con l'idea di cio Alice non è che parte con l'idea di finire per terra no però poi inevitabilmente ci finisce capito cioè è proprio una roba che non regge nulla quindi è una cosa abitudinaria no non abitudinaria quando succede però succede insomma il mio pesci invece esce di casa volendo morire proprio con l'interno cioè lui è consapevole sì 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 cioè lo fa proprio di proprio lui dice oggi mi sfondo e lui si sfondo però è sincero con se stesso vabbè andiamo avanti con i gemelli che risaputo che a noi non piacciono quindi sono ottavi probabilmente li abbiamo fatti scendere noi oggi. I gemelli segni più distrattati di questo podcast. Allora il segno zutacale dei gemelli è quello che più ama far valdoria cioè non significa che lo sappia fare che siano feste organizzate da loro o in cui non sono in cui sono semplici invitati si fanno riconoscere dei veri casinisti invitano gente a più non posso e strafanno sempre. Ogni festa è l'occasione della vita e devono godersela al massimo. Beh la cosa è cioè non è che siccome voi vi state divertendo dovete rovinare la festa agli altri cioè calmatevi perché cioè se mi inviti persone che non conosco a casa mia mi incazzo o comunque non ci piacete. Allora noi siamo contro i gemelli finché non troverò un gemelli e io ho un gemelli decente nella mia vita conosco tutti gli altri non mi piacciono sono pazzi. Io ho due amiche gemelli. Sono come sono alle feste. Sono mie amiche quindi non posso parlare male ma sono pazzi ragazzi sono pazzi nella vita sono pazzi in tutto lunatici però io devo muovere una critica contro la classifica cioè magari ci stanno le serate prese bene fantastici le serate prese proprio loro essendo lunatici in tutto quello che fanno anche nelle feste una cosa invivibile. Dici o va molto bene o va molto male. Esatto non c'hanno una via di mezzo no? Ma passiamo al prossimo segno. Secondo me è strafanna cioè quello è il problema principale se tu fai troppo non piaci più. Vabbè abbiamo il segno della nostra cara conduttrice. Allora il segno più bello del mondo vergine. I vergine amano fare festa e straverzi e festaglioli danno confidenza a chiunque anche da sobri ma la vera magia avviene quando bevono. La loro migliore qualità è sicuramente trasformare qualsiasi festa noiosa nella festa più indimenticabile della loro vita e assolutamente cioè io non so se voi abbiate delle brutte esperienze con i vergine. No comunque io penso di poter andare a qualsiasi festa con la giusta compagnia cioè riesci capito a fartela prendere bene. No vabbè io amiche vergine cioè assolutamente. Tu hai qualcosa da no? Allora io ho avuto una relazione con una vergine e anche con un cancro però ve la facciamo finta di niente. E una vergine diciamo che eliminata dalla sua memoria. Potrei potrei avere da ridire in quello che c'è scritto però mi accodo. No no ridici allora e con la giusta compagnia però è proprio la giustissima perché se non è la giusta anche un membro di quella compagnia non è giusta è una bomba atomica bisogna picchiarsi. Un saluto a chi non vedrà mai questo video. Allora io ho un'amica vergine lei è molto festaiola però c'è anche da dire che se arriva che non è la serata sua cioè tu la vedi nelle braccia del fidanzato poggiata che si addormenta. Voi che ne pensate di andare a ballare con il ragazzo parla ragazza? Dipende dal tipo di relazione secondo me. Cioè nel senso se è uno che vede che un qualcuno si avvicina e deve iniziare a fare a botte meglio che non te lo porti insomma. Sei una persona tranquilla? Non so non ci sono mai andata da fidanzato. Ecco dipende dal partner quello è sicuro però sì perché perché no? Cioè nel senso magari ti diverti anche di più eh. Dici? Bah sì. Secondo me è proprio una festa diversa. Ma dipende dalla relazione insomma se è una relazione bella bella divertente sana anche in cui ci stai bene anzi ballare è soltanto una cosa in più. Anche perché stai circondando altre persone c'è musica balli comunque ti diverti comunque ma a fianco hai qualcuno che già. Eh però c'è tipo l'idea che se vorrei ballare con eh ragazzo sì. Vorrei ballare con un'amica mia e sono due feste diverse. Io ballo sulle persone quindi io non ci potrei andare con il fidanzato mio a ballare. Cioè anche questo. Se avessi un fidanzato mi ammazzerebbe. Anche questo quando sei con la tua amica c'è anche quel ragazzo che viene là perché c'è sempre. Il ragazzo viene via a romperti cogliene. Però cioè stai con il ragazzo. Ok da ragazzo invece com'è andare a ballare da fidanzato? Mai ci andrei. Aspetta da fidanzato o con la fidanzata? Con la fidanzata non ci andrei mai. Ok perché? Allora perché eh sì non è andato bene. No? No no. Ah beh magari era lei il problema. Ci sono stati dei litigi violenti. Ricordo delle liti. No perché semplicemente abbiamo due modi. Cioè ho sempre avuto delle situazioni in cui avevamo due modi di viversi di vivere la serata. Ok. Capricorno. Il capricorno è un segno che ama decisamente uscire e stare all'aria aperta. E ha anche numerosissimi amici. Chissà quando li ha conosciuti visto che lavora sempre. Vabbè. Anche se spesso evita di uscire. Lavori sempre. Lavorate. Sempre oberata di cose. Soprattutto quando si concentra sul lavoro. Il capricorno è un segno che ama fare festa. Incontrarsi con gli amici e tirarla lungo tutte le sere. Vabbè sempre che donna. Cioè sempre quella è l'oroscopo. Quindi. Grazie. Io sono capricorno quindi non mi auto loderò. Quindi criticateci. Ok conosco qualche capricorno. Siamo carini. Ma no è come un comodino. sta lì. È un comodino. No bugia. È un comodino. È un comodino colorato al massimo. Al massimo un comodino con le rotelle. Eh sì esatto. Lo porti al massimo. Perlomeno. Con le rotelle. Io ballo un sacco. Anch'io ballo un sacco. Infatti hai due capricorno davanti. Allora entra in discoteca. Balla la prima mezz'ora. Poi si ferma. E balla solo quando capita la canzone che gli piace. Gli uomini sono abbastanza. Eh lo conosco un capricorno uomo e chi che non lo conosce. Però vabbè. Che rapporto avete con l'alcol? Allora. Io ho vomitato. Tu sei astemia? Lei ha astemia. Ok io non sono astemia. Ho vomitato nella mia vita per l'alcol quattro volte. Io una. Non le ha contate. Da quanto? Da pochi anni. In realtà da quando ho iniziato l'università paradossalmente. Perché l'alcol non mi piace raga. C'è un sapore veramente terribile possiamo dirlo. Che schifo. Beh il vino. Il vino neanche il vino mi piace. Neanche il vino mi piace. Mi sa di aceto il vino ragazzi. Mi sa veramente. Vi giuro io sono blasfema. L'alcol è l'unica droga legale. Questa è la questione. Quindi è per questo che la gente ne abusa. Sei libera. Però devo dire che alcuni dei più belli ricordi che ho delle feste sono legati effettivamente all'alcol. Quindi alla mia vita passata. Effettivamente posso. Ormai è passatissima ragazzi. Ma effettivamente non mi diverto più da quando non bevo. Cioè è proprio una cosa. Cioè non quanto mi divertivo prima obiettivamente. Dai sei molto più disinibito. Molto più. Cioè ti fai ridere qualsiasi cosa. Io ho avuto conversazioni con gente ubriaca che si stava divertendo un sacco. Invece ero dico ah che cazzo ti ridi. Probabilmente da ubriaca avrei riso anch'io molto. Però ti dico questa cosa l'ho provata quando ho preso la macchina. Ed è stata la prima volta in cui ovviamente mi imponevo che non si beva la guida. E mai fatto. E lì mi sono resa conto di quanto gli altri si stessero divertendo. Ma andiamo avanti col quarto segno. No col quinto segno. Allora. Toro. Se siete presi bene iniziate dalle otto di sera fino alle otto della mattina dopo. Sapete gestire bene il vostro rapporto con l'alcol e fate finta di essere selettivi ma balereste anche il reggaeton. Ammettetelo. Che dire compagni perfetti per una serata di festa. Io confermo ma non ho molto. Cioè bravi top ok. Però c'è normali. Io penso di non conoscere nessun toro. Io ho solo un ragazzo che è stato un mio amico fraterno per vent'anni. E lui invece. Cioè penso ci sia sempre questo gap di genere. Non nada no. Tra l'altro queste mi hanno scritte io a Rianna. Quindi seguono un po' il nostro. C'è questo gap io perché questo toro. Allora è vero che si è preso bene. è uno schiacciasassi. Cioè uno schiacciasassi in senso che si autodistrugge però cioè proprio perde completamente la bussola e diventa la cosa più incredibile dell'universo. Se è preso male è il comodino in confronto e di compagnia. È una lampada rotta. Ma se me non esce per niente di casa se è preso male il toro. No vabbè no. Esce. Cioè devi costringerlo. Però quando lo costringi poi esce e al massimo ti incolpa del fatto che ti ha detto che non volevo uscire. Quindi il toro uomo se esce e non la voglia fa il comodino. Ma raga odio. Cioè se non vuoi uscire non uscire. Cioè se mai che devi fare un favore. No raga io le odio. Non lo fate. Il mio scorpione è offeso. Il mio scorpione è offeso perché se io sto male esco voglio stare con te in compagnia vostra. E quindi io sto con voi. E malgrado la mia sofferenza interiore ho deciso di passare il mio tempo con voi. Comunque il toro i miei amici toro in realtà non è che non escono di casa. Sì. Ignorerò questa cosa. Si adatta. Cioè nel senso il loro umore lo adattano alla situazione. Nel senso ho la mia amica Valeria. Ok. Valeria esce di casa. Capisce come sta. E dice ok oggi sono da bar. Oggi sono da discoteca. Non la fa pesare agli altri però. Cioè lei fa quello che può fare nel suo nella sua bolla e non do fastidia a nessuno. Poi non so abbe gli uomini siete tutti pesanti. Cioè questa è la realtà. Non c'è il segno. Siete tutti pesanti. Ma andiamo. Comunque. Arriviamo al prepodio e abbiamo il leone che sono persone che amano stare tra la gente e sentirsi al centro dell'attenzione. Come scopo. Scusa. Toro sulla grafica per favore. Scusi che va aggiornata. Allora. Dicevamo. Vogliono sentirsi al centro dell'attenzione. Non solo hanno bisogno di divertirsi e passare la notte svegli a fare Baldoria. Il loro obiettivo è essere l'anima della festa. Adorano ricevere complimenti e avere occhi nuovi su di sé. Non ho testimonianze. Quindi passo il... Io ce l'ho molto. Allora. C'è un ragazzo che conosco, Leone, che invece, beh, abbastanza in ricerca di attenzioni. Però non è proprio esagerato. Cioè non è uno scorpione. Allora. Secondo me è più forza che ricerca di attenzione. Questo non l'ho scritto io. Cioè mo... Questi sono i siti... Questi sono i siti di che donna. Più che cercare l'attenzione, loro sono proprio... Cioè attirano attenzione. Ma non lo fanno di proposito. Cioè io ho una mia amica che... Lei arriva... Lei splende proprio. Cioè balla, capito? È energica. Quindi tu per forza la guardi o comunque ti ci metti a ballare con lei. Non perché, capito, lei si mette sul cubo a fare la pagliaccia. Proprio... È di suo così. È un ascendente scorpione. Eh sì. Ma no. Vabbè, comunque. Però dai, ci piacciono i leoni. Arriviamo al podio con il sagittario e dicono che... Se c'è una festa e i nati sotto il segno del sagittario saranno i primi a prendervi parte dei vagabondi che non sentono mai la stanchezza. Per i sagittari ho la vita intera e un grande party. Avanti di tutto ciò che ha e che li porta a stare in giro o tra la gente. Sono sempre pronti a qualsiasi novità. Sto sito inaffidabile. Vabbè, loro... Li piace fare festa. Però devo dire che da chi conosco una volta che si fidanzano muoiono. No. Sì. Vabbè, i miei sagittari. Poi non so gli altri. No, ragazzi, io non ho nulla da dirmi. Cioè, me ne ha passato credo per deformazioni professionali, ma non... Sagittario, che periodo è? Che periodo è il sagittario? Tra scorpione e capricorno. Ce l'hai, ce l'ha. Ce l'hai anche tu però, Anna. Ce l'hai prima tu? Se la devi dire dopo, non la dici. Il mio ex era... Però sono troppo carini. Sono fuori dal mondo. No, però sono... Le feste sono fantastici. Sono magnetici. È bellissimi. Sono completamente d'accordo con questa cosa. Cioè, tu stai con uno scorpione, lo sai, vero? Sto video non lo vedrà mai, penso. Spero per te. Quindi, sagittario. Allora, io c'ho... Io, sagittario, sì. Allora, c'ho diverse persone. Sono... Sono la versione scarica dello scorpione. È vero, è vero questa cosa. È la versione scarica dello scorpione, sagittario. Cioè, sono letteralmente tra voi e noi. Cioè... Cioè... Ci hanno anche... Non ci posso, credo, io sto a dire queste cose. Ciao, mamma. Guarda che cazzo hai fatto. Però devo dire che allo stesso tempo... Sono... Sì, sono interessanti. Chi vuole leggere il secondo posto? Vai. Secondo posto... Un po' di... Rullo di tamburo. Allora. Arianna mi passa il testimone per il secondo posto di questa classifica con l'Ariete. I nati sotto il segno dell'Ariete sono gli amici perfetti a cui rivolgersi per fare festa. Curiosi e bisognosi di stimoli sarebbero capaci di imbucarsi ad un party per scoprire cosa combinano gli altri. Bersi un drink e fare nuove conoscenze. Ora, io non ho contezza di come sia un Ariete. Non conosco nessun Ariete. Quindi Arianna ci dà la sua testimonianza. Allora, io ho molte amiche Ariete. Alle feste sono tutte fantastiche. Cioè, io ho Angelica, che tu la vedi a una festa... Sì, c'è Angelica. Lei salta, balla. Eleonora, cioè, beve due bicchieri, lei salta, cioè, fa di tutto. Sono fantastiche. Però non bevete troppo, per favore. Che vuoi? Che casino. Ariete che periodo è? Ariete è aprile. Prima del torno. Prima, sì, sì, sì. Quindi fine marzo. Allora, inizio aprile. Ah, ok. No, forse è un po' troppo alto per le esperienze. Cioè, persone un pochino più pacatine. Cioè, divertenti, simpatiche anche durante le feste, però un pochino più nel loro. Cioè, fanno compagnia. Però non è che dici proprio sono l'anima della festa. Che come l'altra volta? Noi l'altra volta agli Arieti non riuscivamo a dare una cosa perché non trovavamo nessuna testimonianza. Perché non scopano? Non fanno un cazzo? Dove state? Uomini Ariete, dove sono? Passiamo al primo vincitore indiscusso di questa classifica settimanale che è il segno della bilancia. Eh, ma è proprio una classifica bilanciata. Di blu marino colorato. Mamma mia, che battuta di merda. Ciao Antonio. Ciao Antonio. Antonio, tu che segno sei? Antonio è del... Io sono del segno dell'Ariete. È dell'Ariete. Ah, abbiamo la Riete. Che è quello di cui state parlando, credo. No, abbiamo appena finito di parlare della Riete. Ok, scusate, sono arrivati le feste. Quals'è la richiesta, Antonio? Carico. Dipende. Quindi secondo posto meritato. Sei ubriaco, Antonio. Dicevamo, poi torniamo alla bilancia. Che ci dice, che donna? Se si parla di un bilancio alle feste si pensa subito al PR con il megatavolo con amici e tanto alcol. Organizzano tutto già da una settimana prima e puntano a divertirsi dal primo fino all'ultimo secondo. Comunque non l'ha scritto che donna, l'ha scritto questa donna, questa. Che donna. Hai testimonianze tu? Quindi è rimasto fino agosto, inizio settembre? No, bilancia è fine settembre, inizio ottobre. Ok, avevo sbagliato il mese. Fine settembre, inizio ottobre? Io ce l'ho, un bilancio. Vai andando. È fantastico. Sì, lui, carico, nel senso... E poi, cioè, nemmeno sulle feste organizzate, anche sulle cose organizzate all'ultimo. È vero, è vero. I cenoni, sempre quello che organizza, quello che chiama tutti. Ma anche le donne ballano. Esatto. No, vabbè, ma io amo i bilanci. Devastante. No, dicevo che adesso il bilancio del tuo segno, ma la volta scorsa l'abbiamo demolito, non il bilancio. Però io, siccome non ho mai avuto rapporti sentimentali con i bilanci, cioè ho solo amici, amici maschi, amiche donne, non ho mai avuto altro. Quindi, sì, io a livello sentimentale non ho detto niente. Infatti ho detto, anzi, io vi ho difesi. Perché mi ricordo proprio in maniera molto lucida qualcuno che dice che il segno della bilancia è il più stronzo. Carlotta. Carlotta. Salutiamo anche Carlotta. Sì, ciao Carlo. Sì, no, a me bilancia piacciono veramente tanto, cioè non ho mai avuto problemi, ripeto, donne, uomini, tra di loro non possono stare. No, io ho due amici bilancia che, ma manca le feste, litigano pure per la bottiglia. Perché sono anche molto, cioè nel senso, vogliono stare, vogliono essere, i pistaglioli, capito, mi sembra tipo che si scontrino. Sì, della serie se sto io al centro dell'attenzione non puoi stare anche tu. Eh, non puoi stare anche tu, esatto. Però noi vi vogliamo bene. Ciao Cosimo. Ok, facciamo una testa e poi... Allora, primo aneddoto. Eccoci. C'è questo ragazzo, lui è un sacco energico, fa... Allora, adesso ha 19 anni, fa i tavoli da quando ne va a 16, ed è tipo, cioè, è salito anche un altro un po' di livello, va a tavoli tipo da 1000 euro, è un grande, cioè, non si sa come porta comitive e comitive in questa discoteca e si prende sempre un sacco da bere. Secondo te che segno è? Bilancia. Ok, bravo. Quindi la classifica funziona. Ok. Andiamo avanti con il prossimo, un punto su qua. Ok, ridici. Più o meno. È una ragazza. È una ragazza che devi chiamare il momento giusto alle feste, nel senso che magari esce anche se non ha voglia, però una volta che esce o se la fa prendere benissimo o se la fa prendere malissimo. Il problema è che lo fa grazie a delle sostanze. C'è solo con quello, altrimenti non va, non funziona. Non è né ultima né prima. Ok, no, immagino ovviamente. E diciamo che, allora, per le cancro che conosco io potrebbe essere un cancro, però… Però i cancro non escono da… Esatto, infatti però, 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 però diciamo che potrebbe essere… Ma hai detto che comunque, se vuole, esce poco, comunque esce, magari se la fa prendere bene. Toro? No. No? Però ci sei vicino. Ah, ok, capricorno. Sì. Però… Ma andiamo avanti con il prossimo. Allora, sempre un ragazzo, lui arriva in discoteca, sempre allo stesso tavolo di quello di prima, quindi comunque tanto alcol, a un certo punto… Non esiste la festa, capire? Sempre la stessa festa. E i personaggi miei va. E inizia a bere, bere il primo, il secondo, il terzo, il quarto, beva assai. Lui non ha un bel rapporto con l'alcol, poi inizia a fumare, non ha nemmeno un bel rapporto con quello. A un certo punto, noi stiamo ballando, stavamo ballando, ci arriva un messaggio da una ragazza che stava con lui dicendo, l'amico tuo sta fuori, venila a recuperare, noi pensavamo l'avessero rapito, insomma. Arriviamo fuori, lui seduto a terra, con gli occhi tipo svoltati, io ho tirato uno schiaffo, non ho mai tirato uno schiaffo così forte per farlo riprendere, ci siamo spaventati, poi l'abbiamo insultato da morire. Qua, mi spiace, forse sbaglierò, leone. No. Eh, però questa è proprio la descrizione del mio amico che fa la stessa ascendente. Magari c'è nello stesso ascendente, non lo so. Allora, non è leone. Allora, ti dico che non è in alto. Non è in alto, quindi leone è troppo in alto. No, no, non ha un buon rapporto con l'alcol. Cioè, che meglio se si stanno a casa. Ah, regà, ho dormito tre ore. No, no, devo indovinare. Sono scorpione? Oh, ma sono scorpione? Posso sbagliare su un gioco? Oh, stiamo sbagliando. Allora, io direi cattivo rapporto con l'alcol. Oddio, non ricordo se fosse... Che era il cancro che c'era il cattivo rapporto con l'alcol. Ah, che era un pesce. No, esatto. È un pesce. Nessuno mi ha dato dei consigli. Giuro. Allora, adesso ti parlo di un segno. Allora, eravamo a Random di Senigallia. A Senigallia, quindi era a mezzanotte il suo compleanno. Lui è il ragazzo. Praticamente organizza tutta questa cosa. Lui prende la macchina, porta le persone, arrivano là. Faccio anche a mezzanotte. Non è bruttissima cosa. A mezzanotte è il suo compleanno. Letteralmente tutti gli amici sparsi in giro. Non ti dico che l'avresti già trascolo, però... Insomma, non è stato ovviamente quello che uno si era immaginato. Fatto di stare è stato praticamente tutta la sera a controllare gli amici che stessero bene, a non ti dico divertirsi tanto. Questa è stata la sera del suo compleanno. No, sta parecchio in basso. Sta parecchio in basso. Maga è il mio. Che è, scorpione? L'accendo. Vabbè, può starci. Cioè, va bene. Ti sei riconosciuto in questa descrizione. Sì, quanto voleva morire e uccidere, però? Perché è un particolare che devi aggiungere. Uccidere gli altri? Non lo fa vedere tanto, però... Sì. Siamo fratelli, lo capisco. Scorpione. Scorpione. No, ovvio, non lo fai vedere, però lo terrai per sempre. Detto ciò, grazie a tutti per l'ascolto e ci vediamo la prossima settimana. Baci. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.